Giro di vite da parte dell'amministrazione di Cerveteri contro i trasgressori della raccolta porta a porta. Sono ancora troppi gli episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade e i comportamenti non adeguati di alcuni utenti che si ostinano a non rispettare le regole, dichiara l'assessore all'ambiente Elena Gubetti. Regole piuttosto semplici, in verità, differenziare correttamente, utilizzare solo i mastelli in dotazione, rispettare gli orari e i giorni di esposizione all'esterno, non abbandonare spazzatura sul suolo pubblico. Abbiamo emesso un'ordinanza estremamente restrittiva, prosegue Gubetti, con sanzioni molto salate. Le multe vanno da un minimo di 50 a un massimo di 1.200 euro. Si ricorda all'utenza che tutto il materiale informativo sulla raccolta è disponibile nel sito istituzionale del Comune. Inoltre è possibile scaricare Juncker, un'applicazione semplice e gratuita che aiuta a diversificare tutto correttamente.